Sono Fabio Dandri dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, sono un tecnico responsabile del settore casa clima dell'Agenzia. L'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia fa parte di una rete di agenzie simile a quella di Modena e lavoriamo più o meno sugli stessi settori noi in Friuli e sul territorio della nostra regione. Uno dei settori su cui ci siamo concentrati fin dall'inizio è casa clima per la promozione dell'efficienza energetica nel settore edilizio. Lavoriamo a stretto contatto con l'Agenzia di Bolzano, ora da poco anche l'Aes di Modena partecipa a questo progetto per cui si sta creando, si è già creata in realtà una rete di soggetti sul territorio a cui fanno parte anche i network proprio per accrescere le competenze e divulgare questi temi in modo capillare. La sfida oggi è la riqualificazione oltre che la nuova costruzione ad altissima efficienza, ad alta efficienza e questo obiettivo è raggiungibile solo se questi temi cominciano ad essere un po' di dominio pubblico e a raggiungere tutti i soggetti a partire dagli utenti, dai cittadini che poi devono abitare e usare queste case. Queste case che grazie agli interventi di efficienza energetica possono offrire un comfort e una qualità assolutamente significative. Abbiamo portato come esempio Gemona del Friuli che è la città dove abbiamo la sede cercando di collegare quattro temi chiave che sono attualissimi cioè la pianificazione, la ricostruzione, la ristrutturazione e l'efficienza energetica. Oggi ancora facciamo un po' fatica a pianificare sia la parte urbanistica edilizia ma anche quella energetica e quindi facciamo un po' di difficoltà a far partire questi interventi di riqualificazione che potrebbero interessare gran parte del nostro parco edilizio esistente e quindi arrivare e portare beneficio a tutto il nostro settore.